Allora, io sono Gabri Costa. In questa seconda parte, visto che stiamo guardando le informazioni sulla missione, che presto saremo a Shadow of Moses, quando ci sarà il quarto atto, Soli Gemelli, dobbiamo vedere cosa sta succedendo in quest'aereo. Avete visto? Sunny sta tenendo Raiden. Snake dice che questa è la sua battaglia, il suo destino, e lo deve fare. Se volete, iscrivetevi subito nel mio canale, commentate, lasciate i vostri commenti, e lo fate per il vostro amico Gabriosta. Ehi, chi è questa wii? Ciao Mei Ling, piacere di rivederti. Ma è da tanto che non ci siamo sentiti nel nostro code quando ci facevi salvare la partita. Vai, rimettiamo a letto Raiden, perché non è ancora pronto. Guardate, l'isola di Shadow of Moses, ve la ricordate? Ragazzi, avete visto chi c'è sullo schermo? Abbiamo Mei Ling, vi fa piacere che è ritornata fra di noi. Siamo lieti di riaverti con noi, Mei Ling. Che ci dici del Metal Gear Rex? Cosa ne ha fatto Washington dopo l'incidente? Liquid Ocelot proverà a usare il Metal Gear Rex, dobbiamo impedirglielo. Ah, il presidente dell'Armstech e il capo della DARPA, me li ricordo. Kenneth Baker e Donald Anderson. Sunny se ne va. Un'isola sperguita a largo è la costa dell'Alaska, è vero, me lo ricordo. È un'isola dimenticata adesso, dopo l'incidente, quando era successo nove anni fa, in Metal Gear Solid, nel 2005. Invece siamo nel 2014, in questo gioco, MGS4. Magari ci arriveremo un po' in ritardo. Noi faremo tutto quello che ci dici te, Mei Ling. Ma devi capire cosa sono le emozioni. Devi sempre lasciarti andare e innamorarti di qualcuno. Mei Ling ha saputo che Otacon non ha i suoi occhiali. Bene, arrivederci, ci riuniremo a Shadow of Moses. Accidenti, sei della marina e sai guidare una nave da battaglia. Sei una soldatessa, ma sarei sempre carina. Non mi scorderò mai la sua frequenza, 140.96, che c'era in MGS1 e ci aiutava a salvare la partita. Il Rex è una bestia, una macchina di morte. Dobbiamo andare. Subito a Shadow of Moses. Ci aspetta. Dobbiamo andarci per forza, ragazzi. Dobbiamo concentrarci. Dobbiamo provare anche l'MH3. Ora vi saluto. Se volete giocare a Metal Gear Solid 4 e andare a Shadow of Moses di questo quarto atto Soli Gemelli, dove c'è il Metal Gear Rex, fatelo pure. Ma ricordatevi che presto si sconfigge Crying Wolf. Ora io vi saluto. Commentate e iscrivetevi.